Tante famiglie domenica 30 maggio, complice a una bella giornata di sole, hanno partecipato all'undicesima festa di Ocesana della famiglia. Un momento gioioso di confronto agliettato dallo spettacolo del frate mago che ha intrattenuto i numerosi bambini. Presente alla festa anche diverse associazioni del territorio. Soddisfatto dell'iniziativa, Don Mauro Barnesi, il quale ha sottolineato l'importanza di ritrovarsi insieme a far festa. Quindi lo scopo della festa della famiglia a livello di Ocesano è quello di fare incontrare le famiglie di tutte le parrocchie e quindi iniziare così anche uno scambio di ricchezze che sicuramente tante famiglie hanno e tante realtà parrocchiali e tante associazioni stanno portando avanti. La giornata è proseguita con un momento di preghiera per tutte le famiglie presedute dal Vescovo e con il concerto del gruppo Neutro a Terra.